la vera identità di monaca in dragon ball super nell'episodio in cui viene rivelata la vera identità di monaca in dragon ball super si nota che questo avviene dopo che vegeta ha affrontato it ed ha perso è stato wish a rivelare che monaca in realtà non è un combattente e che in realtà è un semplice fattorino dello spazio che si occupa di far arrivare a destinazione delle consegne grazie